Géolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, Napoli, 23 marzo 2000, è un rapper italiano. Ha esordito nel 2018 con il singolo Pesecondigliano insieme al collega rapper napoletano Nicola Siciliano. Nel 2019 firma per BFM Music, con la quale ha pubblicato nell'ottobre dello stesso anno il suo album di debutto Emanuele. I suoi album successivi? Il Coraggio dei Bambini, 2023, e Dio lo sa, 2024, sono diventati dei successi, a livello nazionale scalando le classifiche italiane. Géolier ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, classificandosi secondo, con il brano Il Pimei, Tuppite. La sua esibizione e partecipazione al Festival sono state al centro di controversie. Il racconto di uno studente universitario palermitano di 22 anni, colpito da un buttafuori del locale, mentre attendeva l'arrivo di Géolier. Il legale del ragazzo ha spiegato, nel locale si era diffusa la voce che fosse arrivato il rapper. Uno dei ragazzi da me assistiti, che insieme agli amici aveva prenotato il biglietto per quella serata, e per il privé, ha messo la mano in tasca per prendere il cellulare e scattare una foto a Géolier quando è stato improvvisamente preso a pugni da uno degli addetti alla sicurezza, ed è stato buttato fuori da un altro bodyguard. Il ragazzo è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia. Il ragazzo ha riportato un trauma al volto, ed è stato dimesso, con una prognosi di nove giorni, ma tuttora accusa dei problemi alla mandibola, ha fatto sapere l'avvocato. Eventuali responsabilità saranno accertate. Uno degli amici del ragazzo aggredito è stato raggiunto da Palermo Today e ha detto, inspiegabile, eravamo già nel privé mentre Géolier è arrivato alle tre. Preciso che nel locale non c'erano divieti né qualcuno, ci aveva informato del fatto che non si potessero scattare foto. E penso fosse nostro diritto, visto che è un personaggio pubblico. Dopo l'aggressione siamo usciti e abbiamo chiamato la polizia. Si è avvicinato uno di questi addetti alla sicurezza per scusarsi, dicendo che il collega aveva esagerato. Poi abbiamo chiamato la polizia.